Disponibile su ecinema.it Mia madre mi ha sempre detto che il matrimonio è la soluzione per tutti i mali Ci sposiamo, abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata Dove vai? Smetti, la ferma Ma lo senti come parli? Abbiamo una chiesa prenotata, una vita prenotata Ma che siamo? Un ristorante, cazzo No, ci prego E questa persona risolverà tutti i tuoi problemi Ma chi è che mette in giro questa voce? Guarda bene dove vai Guarda bene dove vai Guarda bene dove vai